Buongiorno e bentornati su No Mamamazzo e Buon Natale a tutti quanti. Io sono Fabio e oggi parleremo insieme, per una seconda volta, di un numero della serie regolare di Samuel Stern, edito da Bugs Comics, che si intitola Valery, che per l'occasione ho riletto in questa fantastica edizione di pregio, cartonata e a colori, con un epilogo alternativo. Un epilogo che potete trovare anche nell'ultimo Samuel Stern extra, dal titolo appunto Epiloghi, dove ci sono quattro epiloghi di quattro storie di Samuel Stern, tra cui anche quello di Valery, che però in questa edizione lo troviamo a colori. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno del vischio appeso sotto casa e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di Valery. In generale, se avete letto questa edizione a colori, se avete letto solo quella in bianco e nero, se avete letto l'epilogo sull'extra oppure su questa edizione a colori, fatemi sapere quanto vi piace Valery e se ci sono delle storie di Samuel Stern che preferite a Valery o in generale che preferite dopo Valery. Lo dico perché Valery è, a mani basse, la storia di Samuel Stern che è stata forse più apprezzata, sicuramente quella più ricordata dai lettori della testata. Io, lo sapete, ho sempre fatto eccezioni, Valery non è tra le mie storie preferite, è sicuramente una delle storie più belle che io abbia letto, ma nella mia top 3, nella mia top 5, chiaramente ci sono altre storie. Ho fatto anche una live con altri colleghi lettori di Samuel Stern in cui abbiamo fatto appunto una tier list sui nostri numeri preferiti e anche lì dico la stessa cosa. Ciò nonostante, da quando io ho letto Valery la prima volta, sono passati tre anni ormai e in questi tre anni una persona cresce e fa delle esperienze diverse. E quindi anche quando legge di nuovo un fumetto che ha già letto in passato, specie un fumetto che tratta di temi anche molto attuali come quello di Valery, lo legge con un'ottica diversa. E devo dire che questa seconda lettura l'ho apprezzata molto di più proprio perché, come presumo tutte le persone che l'hanno apprezzata la prima volta, mi sono ritrovato di più in alcuni parallelismi con la storia. Ma di cosa parla Valery e di cosa parla Samuel Stern? Soprattutto lo dico come se proprio veniste da Marte e non aveste mai letto né Samuel Stern né tantomeno questo numero. Samuel Stern fondamentalmente è un fumetto da edicola, italiano, che potete trovare appunto tutti i mesi, a fine mesi, in edicola, che fondamentalmente parla di questo ragazzo, di questo giovane uomo che di mestiere fa il libraio ad Edimburgo ma sotto sotto ha una dote, una dote nascosta che è quella di riuscire a percepire i demoni che sono dentro di noi e a esorcizzarli, a estrarli e lasciare appunto le persone prive di questo demone che nella sua mitologia non nascono dall'inferno per andare a possedere appunto il malcapitato ma nascono proprio all'interno della persona e la persona stessa creare il proprio demone a seguito di traumi o comunque una vita fatta di sofferenze che generano un'ombra nella propria anima e da quest'ombra nasce appunto un demone che si forma fino a diventare una metastasi nel corpo e a dominarlo totalmente. il compito di Samuel Stern quando affianca il suo amico, sacerdote, padre Duncan è appunto di liberare queste persone da questi demoni. Valerie è la storia che ci mostra cosa succede quando Samuel Stern ha finito il lavoro cosa succede dopo che una persona è stata liberata da un demone. ovviamente perché non ci mostrano mai il post-storia di una possessione, di una liberazione da una possessione demoniaca perché si presume che ci sia il leto fine e ci sia il... e vissero tutti felici e contenti vado a toglierti un demone e quindi tu vai a stare meglio Valerie parla di una storia diversa. In un certo senso Valerie stessa è un epilogo di una storia di una storia di Samuel Stern è un epilogo di una storia di Samuel Stern che diventa una nuova storia una nuova storia incentrata appunto su quello che è successo a Valerie dopo e Valerie purtroppo è una ragazza come Samuel e padre Duncan dicono che non ha mai avuto un vero e proprio trauma ma appunto ha avuto una vita piena di tante piccole delusioni di tante piccole sofferenze che l'hanno portata ad avere un'autostima così bassa da buttarsi giù continuamente. Valerie è quasi patologica avrebbe sicuramente bisogno di un aiuto psicologico ma quello che si può evincere dall'inizio alla fine di questa storia è che appunto Valerie è la prima detrattrice di se stessa si dà della cretina da sola si dà della nullità si dà della persona inutile non si ritiene attraente non si ritiene talentuosa non ritiene di valere nulla ha una, chiamiamola sindrome dell'impostore ora va tanto di moda usare questo termine ma qui non so nemmeno se si tratta di questo o se è qualcosa di ben più grave non so nemmeno se si tratta di depressione o se semplicemente appunto è come ho detto all'inizio una gravissima mancanza di autostima che porta Valerie a negare a se stessa da un certo punto di vista il piacere di vivere da un altro punto di vista questa spirale negativa in cui che lei percepisce del mondo e di se stessa la porta poi a odiare il mondo a odiare tutto quello che secondo la sua concezione è più felice di lei che purtroppo è un'altra conseguenza molto comune delle persone che vivono in questa maniera Valerie non è una persona rarissima in questo mondo ne vediamo ne vediamo tantissime ne vediamo tantissime sui social magari non vediamo l'aspetto più autodistruttivo di queste persone vediamo di più l'aspetto invidioso vediamo di più l'aspetto distruttivo verso gli altri di queste persone Valerie non all'inizio ma verso la fine di questo numero inizia a odiare l'oggetto del suo desiderio inizia a odiare le persone che stanno attorno all'oggetto del suo desiderio perché stanno attorno a lui che è Samuel Stern in questo caso e non ci sta lei quindi inizia a provare una forte invidia un forte odio e questo forte odio assolutamente irrazionale lo percepisco appunto in un sacco di persone che vanno a demolire tutte le cose positive che si trovano dico sui social perché sto usando il mezzo social nella vita reale chiaramente la bolla è più circoscritta ma è una cosa che si è sempre fatto si è sempre fatto nelle chiacchiere di paese e adesso si sta facendo nella grande community che è l'internet a queste persone non va mai bene niente di quello che vedono esternamente perché fondamentalmente hanno un problema con se stesse Valerie non esplora ovviamente questo pesante aspetto della realtà odierna ma lo sfiora e mi sono ritrovato a fare questa associazione in alcuni punti della storia dalla prima lettura di Valerie ad oggi io nel frattempo ho conosciuto sicuramente almeno un paio di Valerie e rivedo molto dei loro aspetti in questo personaggio inventato e questa seconda lettura appunto mi ha portato a apprezzare meglio questo numero proprio per questo motivo vedere persone appunto sapere che esistono davvero persone che si demoliscono da soli in questo modo e che quando hanno finito di demolirsi in questo modo iniziano a demolire gli altri perché non hanno il controllo su quello che vorrebbero controllare esternamente è davvero straziante da leggere però un fumetto non deve per forza evocare sentimenti positivi deve evocare emozioni deve evocare sentimenti a prescindere da quelli che siano parliamo un attimo dell'epilogo di cui non ho mai parlato ovviamente nella prima narrazione di Valery perché non era presente né negli epiloghi perché volevo appunto leggermelo a colori l'epilogo come molti hanno detto non aggiunge né toglie nulla alla storia principale infatti anche io pensavo fosse un finale alternativo però è stato comunque bello leggerlo è stato bello leggerlo e vederlo dal punto di vista grafico perché l'autore che tra l'altro è lo stesso della storia principale non è scontato onestamente anzi ci tengo a nominarli perché non li nomino mai all'inizio e mi dimentico sempre di farlo anche alla fine a volte la storia è di Luca Blengino e i disegni sono di Riccardo Randazzo Riccardo Randazzo ha voluto auto-omaggiarsi auto-citarsi con le stesse inquadrature che hanno caratterizzato Valery quindi l'inquadratura ossessiva di Valery che c'è nel numero all'inizio la troviamo anche nell'epilogo dal punto di vista di Samuel Stern cosa succede nell'epilogo Samuel Stern scopre il diario di Valery e dato che si sente in colpa per la sua dipartita per il finale per la sua morte cerca di ritenerla diciamo tenerla in vita leggendo appunto il suo diario e non si dà pace per quello che è successo a questa povera Valery che una volta che è stata esorcizzata è stata un po' lasciata in balea di se stessa e nessuno se l'è più cacata e di conseguenza a Samuel si sente parte parte del problema è molto bello vedere come in una storia fondamentalmente di eroi anche se Samuel Stern non ha maschera e mantello è molto bello vedere le conseguenze di un salvataggio perché spesso e volentieri vediamo l'eroe che arriva senza macchie senza paura salva la situazione se ne va ma non vediamo mai le conseguenze sono pochi i numeri anche nella Marvel nella DC Comics ci sono ci sono queste storie ma sono poche in cui vediamo la gente comune che resta appunto con i resti di quello che è stata la storia l'avventura del nostro super protagonista e questa è una storia che racconta alla perfezione le conseguenze di un salvataggio in modo anche molto negativo ma ci sta benissimo perché siamo in un horror siamo in un horror anche abbastanza psicologico se così vogliamo dire Samo Stern non è per forza un horror splatter è un horror anche abbastanza intimista in certi numeri più di altri sicuramente e mi è piaciuto appunto provare queste sensazioni dal punto di vista interno della narrazione piccola diciamo pure semplice della mitologia sterniana è bello vedere come il numero sia così ancora ingenuo come padre Duncan e Samuel credano alle regole del gioco in modo quasi scientifico un demone non torna mai nel corpo di un incarnato non funziona di un posseduto non funziona così quando poi abbiamo visto che nell'abisso ci sono gli eresi archi che riescono a ritornare a possedere dei corpi umani venendo da legione quindi in realtà non ci sono delle regole fisse ma è bello vedere come all'inizio pensavano a tutte queste cose quasi credevano in maniera dogmatica a quello che professavano al punto da togliere anche la speranza in un certo senso a Valerie che magari se avesse saputo che c'era una minima possibilità di essere riposseduta probabilmente non si sarebbe incazzata così tanto è anche bello vedere come dicono che come sono stupiti del fatto che Valerie non abbia dei veri traumi ma abbia una serie di piccole delusioni che sono durate tutta la vita come sono stupiti che un demone si sia formato in questo modo quando ormai al terzo anno di Samuel Stern è praticamente la prassi che quasi tutta l'umanità abbia la possibilità di essere posseduta proprio per questo senso di malessere generale che pervade l'umanità che passa appunto dal numero in cui se ne parla per quanto riguarda gli anziani lasciati soli fino ad arrivare al post abisco dove questa macchia questa ombra può avere appunto avvolto tutta l'umanità fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia anche alla luce del fatto di questa di questo appunto finale che ho messo mi piacerebbe sapere anche il parere del creatore di Samuel Stern degli autori stessi di Samuel Stern se si appunto si ricordavano che c'erano queste piccole affermazioni da parte di Duncan e di Samuel se erano volute già allora o se appunto poi la storia si è evoluta in modo tale che ci sono stati dei cambiamenti nella mitologia di Samuel Stern degli approfondimenti nella mitologia di Samuel Stern e quanto è carino pensare alla loro ingenuità sulle prime possessioni di cui si occupavano quantomeno quelle che vedevamo noi spettatori io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico buon Natale e arrivederci al prossimo video Grazie a tutti